Il regino, guarda che suono, è mamma, non è facile col binocchio, devi andare bene, devi vederlo prima con l'occhio nero, è bello appunto, il binocchio, è lei, 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 è lei. È un libis con qualcosa in bocca, nel bocca. perché i cenerini dovevano stare in alto hanno occupato questo pezzo di pezzi ma che bella con le pomme a pesare spettacolo